Il centrodestra dice che il bilancio del Comune di Pescara è in ordine? Non lo dice il centrodestra, lo dicono gli uffici del Comune di Pescara, anzi lo hanno ribadito questa mattina con una nota ufficiale indirizzata ai consiglieri comunali, al sindaco e ai revisori dei conti in cui chiariscono alcuni aspetti critici che il collegio dei revisori ha fatto emergere con il loro parere non favorevole. Noi ne prendiamo atto, per noi era assolutamente certo che fosse così e infatti abbiamo contestato al primo momento sindaco e assessore alle finanze che si sono lanciate subito in una comunicazione alla città in cui lamentavano un buco da 35 milioni di euro. Insomma le dimensioni di questo buco erano talmente rilevanti da sé da dover determinare l'assoluta inesattezza di quanto comunicato. Non ci sono buchi, i conti sono in ordine, c'è una oggettiva difficoltà di cassa che quindi rallenta i pagamenti ma che purtroppo è un fattore comune a tutti gli enti locali soprattutto in questa fase e che quindi tutte le scelte sulla fiscalità locale che andranno fatte da qui ai prossimi mesi saranno una scelta politica dell'attuale maggioranza di governo della città e non certo finalizzate a coprire perdite che in realtà non ci sono. Noi non è che lo diciamo, lo leggiamo dagli atti che ci producono i dirigenti e che produce anche il collegio dei revisori probabilmente c'è stato un cortocircuito tra i dirigenti e la forza politica ma io dico principalmente la politica di centrosinistra in questi giorni è stata più attenta a lanciare proclami devastanti nei confronti dei cittadini dicendo che i conti erano in ordine invece di leggersi con dovizia di particolare le varie relazioni. I revisori e i dirigenti dicono che la situazione economica dell'ente in salute, certo ci sono i problemi perché gli enti oggi tutti vivono una situazione difficile però non versa assolutamente in uno stato di deficit strutturale lente e quindi io spero che questa butata estiva di alcune forze di maggioranza non sia dovuta a dire che tra un qualche giorno penseranno di aumentare le tasse ma sarà dovuta solamente a una inesperienza, a una superficialità che non deve comunque esserci.